Abbiamo deciso di dedicare uno spazio alla rivelazione di un segreto che potrebbe cambiare la vita di moltissimi. Il segreto della felicità. A volte è semplice essere felici. L'ha scoperto una sociologa, una professoressa molto importante, la professoressa Olga Quercetti, che abbiamo quindi invitato qui oggi durante questa puntata di 610 proprio per svelare a tutti i radioscoltatori qual è il segreto della felicità. Lei ha trovato una piccola chiave, che ora ci spiegherà meglio, perché secondo lei il segreto della felicità consiste nel vivere ogni giorno come se fosse l'ultimo. Ecco, è una maniera molto semplice sulla quale la professoressa Olga Quercetti ha costruito tutte le sue teorie. Vivere ogni giorno come se fosse l'ultimo. Questo per vivere felicemente. Direi di passare la parola direttamente alla sociologa Olga Quercetti. Non voglio morire, non voglio morire. Scusi, 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 ma... Scusi, scusi, ma... Scusi. Perché a me? Perché? No! Non voglio morire! Professoressa, professoressa... Non voglio morire! Professoressa, scusi. No, no, non voglio morire, non voglio vivere ancora! Professoressa, scusi. Non voglio vivere io!